A fatto tappa oggi a Salerno sulla spiaggia di Santa Teresa la tournée della Banda Riciclante, un progetto nazionale che coinvolge gli studenti salernitani in attività di pulizia in spiaggia, laboratori di riciclo e teatro e infine una parata nelle vie del centro della città, in programma nell'ultima giornata in calendario il 5 aprile. Oggi in spiaggia con i volontari della Banda Riciclante, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Statale Gennaro Barra, una delle scuole che in 12 regioni italiane saranno coinvolte nell'iniziativa che ha come principale obiettivo sensibilizzare i ragazzi sui temi della sostenibilità ambientale. Il progetto si chiama Banda Riciclante lotta al piccolo rifiuto, è un progetto sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e noi praticamente giriamo tutta Italia, dobbiamo fare praticamente 12 regioni dal nord al sud e lavoriamo anche sulle spiagge come oggi con tutti i bambini delle scuole qua di Salerno e stiamo coinvolgendo i ragazzi in questa formazione interattiva anche fatta con il teatro, con la musica. Il progetto prevede una parte di pulizia della spiaggia, di ricupero dei rifiuti a livello artistico, una parte di formazione teatrale fatta all'interno delle classi, una parte musicale per cui imparano a costruire dei strumenti musicali con i rifiuti, con il riutilizzo di bottiglie di plastica, di ruote di biciclette, di scatole di polistirolo, insomma imparano a suonare strumenti atipici fatti con il riciclo. Poi dopo il tutto finisce con questa parata riciclante che in maniera festosa in un qualche modo coinvolge la cittadinanza e avviene poi l'inaugurazione delle installazioni che i ragazzi hanno creato in questi giorni, installazioni artistiche. Grazie per la visione!